Senso di fame? Danio Snack, il nuovo yogurt alla greca. Ho fame, ho fame! Il senso di fame ti tormenta? Ho fame, fame, fame! Sembra impossibile trovare lo snack perfetto per te. Scopri Danio Snack, il nuovo yogurt alla greca, con zero grassi, su un delizioso letto di frutta. Buonissimo! Danio Snack, il nuovo yogurt alla greca. Grazie a tutti.